Non date in appalto lavori a chi non segue le regole. E' questo il grido d'allarme lanciato dal Dipartimento della Prevenzione dell'azienda Usle 2 di Lucca. Sempre più spesso chi esegue un lavoro nel rispetto delle regole si lamenta del fatto che rischia di non essere competitivo nei confronti di chi esegue lavori al nero. Gli imprenditori regolari chiedono quindi al Dipartimento della Prevenzione controlli per individuare e quindi richiamare all'applicazione delle leggi coloro che lavorano fuori dalle regole, i cosiddetti evasori della sicurezza. I rischi si chiamano appunto sicurezza sul lavoro ma anche evasione fiscale. Infatti chi lavora al nero spesso rinuncia all'adozione di misure di sicurezza previste per legge, utilizzando attrezzature e apprestamenti non adatti per raggiungere parti elevate o salendo sui tetti senza alcuna difesa in caso di caduta. Da non sottovalutare anche l'aspetto legato all'evasione, perché anche il committente che dà in appalto la costruzione o la manutenzione dell'abitazione in modo scorretto può incorrere la denuncia alla Procura della Repubblica, con sanzioni pecuniarie che possono arrivare anche alla sospensione del titolo abitativo. Da qui l'appello del Dipartimento della Prevenzione, che esorta cittadini e potenziali committenti ad essere i primi a contestare ed impedire il propagarsi di attività fuori legge.